Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto. Orrore nell'Alta Padovana, una notizia davvero straziante arriva da San Giorgio delle Pertiche, una ragazza di 21 anni è stata investita da un fuoristrada che purtroppo l'ha agganciata e l'ha trascinata per molti chilometri. Una morte orribile per Giulia Spinello. La ragazza era a pochissimi metri da casa quando è avvenuto l'impatto. La notizia di questa tragedia ha fatto immediatamente il giro del Veneto al dolore della famiglia. Sono giunte parole di vicinanza da parte del Consiglio regionale del Veneto, parole che sicuramente sentono nel cuore anche tutti i cittadini. Sentiamo la ricostruzione di quanto è accaduto. Incidente atroce nel Padovano a San Giorgio delle Pertiche. Una ragazza di 22 anni è stata travolta da un SUV e trascinata per vari chilometri senza che il conducente se ne accorgesse. Alla guida del veicolo, un gran cerocchi, una donna di Arsego, una frazione di San Giorgio delle Pertiche. L'investimento è avvenuto a bordo strada a Santa Giustina in Colle. La ragazza è stata agganciata dalla macchina e trascinata per almeno tre, forse cinque chilometri. Sulla strada sono rimasti visibili i segni per ore. L'automobilista, non rendendosi conto di quanto stava accadendo, è giunta fino a casa. A dare l'allarme altri automobilisti che, vedendo la scena, hanno allertato il 112. I carabinieri di Cittadella in pochi minuti sono arrivati davanti alla casa dell'investitrice. La conducente, nel frattempo scesa dall'auto e rendendosi conto di quanto era accaduto, ha iniziato a gridare. La vittima aveva 21 anni, Giulia Spinello. Abitava proprio a pochissimi metri dal punto dell'impatto. Era uscita di casa per andare dalla nonna a portare qualcosa. Di lei sono rimaste un paio di scarpe da ginnastica che in un primo momento sono rimaste di fianco ad un mazzo di fiori bianchi. Una tragedia immensa che ha scosso tutto il paese e lasciato una famiglia nella disperazione più totale. I carabinieri della compagnia di Cittadella che stanno seguendo il caso dovranno ricostruire l'intera vicenda. Rimane difficile comprendere come la conducente non si sia resa conto dell'incidente. La donna che era alla guida è stata trasportata all'ospedale in stato di shock. L'ipotesi sulla quale gli investigatori stanno lavorando è al momento omicidio colposo. Davvero una notizia terribile, come avete sentito. Continuiamo con altri fatti che riguardano il nostro territorio. Il pubblico ministero della procura di Vicenza, Barbara De Munori, ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio immediato per le due insegnanti di scuola media della provincia di Vicenza accusate di atti di violenza e danni di un minore autistico. Le due maestre erano state arrestate lo scorso 8 aprile in una delle aule della scuola media dove insegnavano. Le due erano state anche riprese mentre agivano nei confronti del minore con atti di estrema violenza. Riprese che avevano addirittura scioccato i carabinieri per la crudeltà con le quali queste violenze venivano perpetrate. Le due donne restano in carcere. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, a margine di un incontro pubblico a Jesolo, ha detto di voler chiedere lo stato di calamità per tutti i 581 comuni del Veneto che in varie dimensioni hanno avuto problemi che vanno dall'allagamento ai danni all'agricoltura piuttosto che ai problemi che hanno dovuto subire le spiagge. Molte tra l'altro risultano ancora impraticabili. Il Veneto a causa del maltempo e delle precipitazioni che non si registravano così abbondanti da centinaia di anni ha riportato per il presidente danni a 360 gradi. I giudici della sezione fallimenti del Tribunale di Venezia ha rinviato il deposito della sentenza attesa per oggi relativa al futuro della vinilis di Marghera. I magistrati, secondo quanto riferisce il segretario generale della FENCA CISL di Venezia, Massimo Meneghetti, prima di depositare gli atti attenderebbero l'esito dell'incontro che si svolgerà l'11 giugno a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico. Il vertice voluto dal ministro Zanonato spiega Meneghetti deve portare a qualche soluzione concreta offrendo la soluzione meno impattante per i lavoratori. Secondo il sindacalista sarebbe necessario convincere i giudici a decidere verso l'esercizio provvisorio. Ciò permetterebbe l'avvio di una nuova cassa integrazione in attesa che si concretizzino i progetti dei due gruppi intenzionati all'acquisto. Un'auto con a bordo tre ragazze trevigiane è stata centrata l'altra notte da un grosso sasso lanciato da un cavalcavia. L'automobile viaggiava lungo il passante. Fortunatamente non è successo nulla, nel senso che nessuno è rimasto ferito, ma poteva andare diversamente. Comunque le ragazze erano molto spaventate. Sentiamo. Tanto spavento per tre ragazze che mentre transitavano sul passante di Mestre sono state colpite da un sasso. Le giovani erano a bordo di un Audi A3. L'auto era appena passata sotto ad un cavalcavia quando il parabrezza è stato colpito da una pietra che ha provocato un foro di 35 centimetri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma possiamo parlare di tragedia sfiorata. Bastava che il grosso sasso entrasse in maniera diversa colpendo una delle giovani e la situazione avrebbe avuto circostanze ben differenti. La conducente appena ricevuto il colpo ha costato l'auto e chiesto aiuto al 113. Sul posto è giunta la polizia stradale di Mestre che ha avviato le indagini. Nella stessa settimana altri due casi simili si sono verificati in territorio padovano. Dei sassi hanno colpito due auto, sempre con il buio della sera, lungo strada battaglia. Ma negli anni in Veneto sono molti gli episodi simili messi in atto da sbandati che in questo modo mettono in serio pericolo la vita dei conducenti. Impossibile dimenticare ciò che avvenne nel 1991 sull'auto Brennero. In un episodio, dalle modalità identiche, rimase uccisa Monica Zanotti di San Giovanni Lupatoto, provincia di Verona. Era seduta al fianco del fidanzato quando da un cavalcavia un sasso colpì l'automobile ma la pietra la centrò in testa senza dargli scampo. Monica non fu l'ultima vittima. In altri episodi ci furono altri morti e nel corso degli anni molti altri sono stati feriti. I carabinieri di Vittorio Veneto hanno arrestato per tentata truffa un giovane di 19 anni calabrese residente in Sicilia con precedenti che poco prima aveva simulato l'urto della propria auto da parte di un'altra con l'obiettivo di ottenere un indebito risarcimento. La vittima, un'impiegata di 37 anni che si è accorta del gesto, ha chiamato il 112. E' accaduto nel Veneto. L'uomo è stato arrestato e portato in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima. Anche per questa stagione estiva 2013 viene riaperto il presidio estivo dei carabinieri a Rosolina Mare, una stazione temporanea attiva da domani fino al 30 settembre con una forza organica di 10 militari. Il presidio gerarchicamente dipende dalla compagnia di Adria, rappresenta uno strumento di controllo del territorio nonché di prossimità con i cittadini. Durante l'estate a Rosolina Mare ad affiancare i residenti arrivano migliaia di tedeschi, soprattutto sono turisti tedeschi. Indagini difficili a Venezia sul corpo ritrovato nelle acque della marittima, ovvero la zona del porto. La prossima settimana al via gli esami autoptici con degli apparecchi particolari. Resta per ora avvolto nel mistero il ritrovamento del corpo mutilato nelle acque veneziane nell'area ridosso della marittima. Il corpo ripescato alcuni giorni fa è in uno stato tale da rendere molto difficoltoso anche l'esame autoptico. Per eseguire la procedura dovranno essere utilizzate delle strumentazioni particolari. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una donna, statura bassa. Qualcuno azzarda una possibile origine cinese, ma al momento non ci sono conferme. Bisognerà attendere la prossima settimana l'avvio degli esami per trovare qualche elemento utile alle indagini. Resta anche il mistero della mutilazione. Vero che nella zona ci sono molte barche, ma possibile che le eliche siano andate proprio su quelle parti di corpo importantissime per l'identificazione? Il caso per ora resta ancora avvolto nel mistero più nero. Con una forchetta riusciva a manomettere gli sportelli Bancomat. Per questo motivo un cittadino moldavo è stato arrestato dai carabinieri di Mira nel Veneziano. L'uomo attraverso questo meccanismo bloccava l'uscita del denaro richiesto da ignari cittadini che dopo aver inserito il Bancomat in realtà se ne andavano a mani vuote a riprendersi il denaro. Poi ci pensava il trentenne che toglieva la forchetta e quindi le banconote uscivano. L'uomo è stato arrestato sul posto. La regione con un decreto del presidente Luca Zaglia ha ripartito tra le sette province e i 469 comuni del Veneto e la plafondi 50 milioni di euro a sua disposizione per il patto verticale incentivato 2013 secondo quanto previsto dalla legge di stabilità. Con questa prima tranche in ogni caso si potrà consentire a molte amministrazioni locali di effettuare pagamenti che altrimenti sarebbero rimasti bloccando e mettendo una nuova liquidità nel sistema economico. Tutti usiamo il telefono cellulare. Più di qualcuno si domanda se fa male oppure no. Ancora certezze non ce ne sono ma sul sito del Ministero della Salute ci sono alcune linee di prevenzione per l'utilizzo dell'apparecchio. Allora ascoltiamole. Il telefonino è diventato uno di quegli oggetti che fanno parte della vita quotidiana delle persone. Vent'anni fa non era nemmeno immaginabile lo scenario attuale. Eppure i tempi cambiano e la tecnologia oggi fa da padrona. Il cellulare è un compagno giornaliero che ci permette di telefonare ma anche navigare e fare mille operazioni. I cellulari però usano delle frequenze di trasmissioni sulle quali la ricerca ancora non è in grado di dire se per il corpo umano siano innocue oppure possono avere delle ripercussioni negative. Nel 2011 i campi elettromagnetici in radiofrequenza come quelli prodotti dai telefoni mobili sono stati classificati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, dell'OMS, come possibilmente cancerogeni per l'uomo. Il gradino più basso della scala di valutazione dell'Agenzia sui fattori di rischio dei tumori, adottata nel caso di evidenze scientifiche limitate e in cui il livello di correlazione non è certo e nemmeno probabile. L'ipotesi che facciano male sostanzialmente è molto bassa ma non è possibile escluderla. Studi finalizzati sono in corso per valutare nel modo più completo possibile eventuali effetti a lungo termine dell'uso dei telefoni cellulari e più in generale delle radiofrequenze. E allora l'utente cosa deve fare? Meglio mettere in atto qualche strategia di difesa preventiva. A consigliarlo il Ministero della Salute che attraverso la sua pagina internet offre tantissimi consigli. Ad esempio ricordarsi che l'utilizzo dell'auricolare tiene l'apparecchio distante dal volto e quindi è una protezione. Oltretutto risulta comodo perché le mani restano libere. Alcuni telefonini hanno anche il dispositivo del viva voce e dunque anche quello se siete a casa e potete parlare liberamente è un'ottima strategia. Tra i consigli del Ministero della Salute si legge anche che conviene fare telefonate corte se necessarie quindi controllare la frequenza quando è possibile utilizzare in sostituzione alla chiamata i messaggi di testo. Una protezione particolare va invece usata nei bambini ai quali va insegnato un uso responsabile. Il bonus per le ristrutturazioni al 50% è stato prorogato dal Consiglio dei Ministri ed è steso anche agli arredi fissi dunque su cucine, armadia muro e bagni oltre ai lavori per l'adeguamento alle norme antisismiche. la quota coperta dagli eco bonus è stata inalzata al 65%. Ortopedici in stato di agitazione pronti anche a scioperare il prossimo 1 luglio sotto accusa il contenzioso medico legale ormai insostenibile e l'assenza di adeguate regole sulle responsabilità professionali a proclamare lo stato di agitazione. L'associazione Nuova Scotty, dipartimento del sindacato Ampo Scotty Fials Medici che rappresenta i chirurghi ortopedici e traumatologici italiani che la prossima settimana dovrebbero avere un incontro al Ministero del Lavoro per il tentativo di conciliazione volto a scongiurare lo sciopero. In caso di esito negativo, così come già accaduto all'inizio dell'anno con lo sciopero dei ginecologi, sarebbero interrotti per un giorno gli interventi programmati e sarebbero garantite soltanto le situazioni di emergenza. Fondo straordinario di solidarietà, sentiamo di cosa si tratta. In tempo di crisi la vita è sempre più difficile. Se poi si perde il lavoro, diventa un problema fare la spesa, trovare il denaro per pagare le bollette e per le spese necessarie a vivere. Per cercare di aiutare queste situazioni di emergenza è stato firmato un protocollo d'intesa promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L'iniziativa si pone l'obiettivo di sostenere le famiglie delle due province in condizioni di disagio per la mancanza di lavoro e prive di ammortizzatori sociali. La Fondazione Bancaria ha messo a disposizione un milione di euro per iniziative di sostegno che saranno avviate in collaborazione con enti locali. Un altro mezzo milione di stanziamenti per quanto riguarda il Padovano sarà garantito dalla Diocesi che ha destinato 100.000 euro, la Camera di Commercio e Fondazione Anton Veneta rispettivamente con 20.000 euro e 25.000 euro. Anche la provincia e il comune di Padova hanno aderito al progetto impegnandosi rispettivamente con 50.000 e 100.000 euro. Il via ufficiale all'iniziativa è previsto per il 10 giugno e sosterrà circa 500 progetti di inserimento lavorativo attraverso doti di lavoro, voucher per occupazioni occasionali, tirocini formativi, progetti di pubblica utilità, corsi di formazione con stage formativi. Al ciascun lavoratore verrà concesso un contributo massimo di 2.500 euro. Ed ora diamo uno sguardo a livello meteorologico. Che cosa ci aspetta per la giornata di domani sul Veneto? In pianura, in mattinata, in prevalenza poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti nelle prime ore del giorno. Nuvolosità è un aumento nel corso della giornata, fino a cielo molto nuvoloso. In montagna, irregolarmente nuvoloso, con temporanei schiarite fino al pomeriggio. Poi anche qui ci sarà un aumento della nuvolosità. È tutto per questa edizione. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie per essere stati in nostra compagnia.